Proprio ora. Io da là l'ho presa l'idea. Grazie. 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 Ma guardate questi orari ballerini. Danzatori di orari del primo mattino della domenica. Danzatori di prima mattina tra le 10 e le 10 e mezza. Esatto. Dai 10 05 non abbiamo fatto neanche troppo tardi. No per l'amore. Io pensavo di fare ancora più tardi effetti. infatti anche io io pensavo di fare tardissimo maledizione mi sveglio ma non è vero e quindi poi dovevo cercare una scusa per dire a Weynor che sono arrivato ritardo e io stavo invece cercando io la scusa per fare tardi altre cose dietro le quinte c'era Weynor che aveva bisogno di carburare la voce l'ha dovuta arreviare un paio di volte non avevo più voce ragazzi non c'era proprio ho detto bene iniziamo perfetto con un podcast benissimo esatto c'è proprio stamani che si deve parlare la voce non c'è è una cosa che potrebbe servire no vabbè scusami che ti ho a fare come co-conduttore scusami vero? giustamente devo fare la supporta hai ragione guardali ma guarda te allora allora ci facciamo già vedere pure dai dai tanto sono vestito però io no ah buongiorno ma buongiorno 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 salve come state mi ero dimenticato della chat lol ecco come? no eh ho fatto un errore di calcolo un errore di calcolo buongiorno buongiorno ragazzi io sono abbastanza emozionato per stamattina nel senso che è un progetto che ho in testa da secoli ne ho parlato con Cypher sotto anche lui era entusiasta e l'abbiamo messo in cantiere tanto tempo fa e con questa mattina diamo ufficialmente là all'appuntamento domenicale essenzialmente a meno di qualche variazione del nostro podcast podcast dove parleremo di determinati argomenti successi la voce che se ne va ancora argomenti successi nei mesi passati o comunque di abbastanza attualità ok e nel corso diciamo della mattinata noi parleremo di queste cose ovviamente vi invito a scrivere in chat eventuali considerazioni noi ad ogni fine capitolo questo mi sono dimenticato di confrontarmi con te sai a fine capitolo eventualmente ci leggiamo qualche domandina se concordi di quelle che vediamo quindi se ci sono domande approfondimenti o considerazioni comunque vi leggere ti dicevo di noi era un casino dobbiamo resettare tutto quanto staccavo la live e fuggivo in Mexico mamma mia il sonno c'è tanto il sonno c'è tanto e quindi vogliamo illustrare gli argomenti che però non saranno in quest'ordine no infatti allora in realtà quello che abbiamo voluto organizzare assieme è stato più buttare giù dell'idea e prenderci tutto il tempo che occorre per affrontarne uno o più infatti diciamo che introduciamo magari il primo argomento mentre chiacchieriamo mentre magari c'è qualcuno con ancora il cappuccino che sta bevendo altri col cornetto e tra una cosa e l'altra ci introduciamo c'è già una domanda una domanda prima di iniziare vai perché no è sostanzialmente uno degli argomenti diciamo che sta toccando un pochino di più il contesto videoludico perché tra parentesi Wenner non è che ha detto di che parliamo in questo podcast quindi lo dico io parliamo delle tecnologie dei videogiochi cose comunque in generale non le hai detto non le hai detto hai detto Terrabrunch ma di che cosa si parla si parla di videogiochi di cose che ci piacciono no vabbè l'ho detto in live nelle varie presentazioni lo si quello si dicevo per stamattina più che altro anche per ricordare si non l'ho detto forse su Instagram effettivamente avrei dovuto fare una storia non l'ho fatta e chissà come mi sono ricordato di farla prima di partire dalla live quindi vero eh si non è un problema anche perché comunque diciamo che lo scopo è farci compagnia la mattina dando uno spunto di pensiero per tutto il resto della settimana entrante quindi ci sta per quanto possiamo esatto per quanto possiamo parlare di videogiochi tecnologia ricordiamo anche che in generale l'opinione può farci finire da altre parti poi dipende se finiamo troppo in largo torniamo alla riva e così via però in generale diciamo ma tanto non credo che devieremo molto dai vari argomenti nel senso dici no non devi no per l'amore del cielo non devi vabbè no no assolutamente comunque vogliamo fare una carrellata non lo so vai ok vabbè allora diciamo ne giusto un paio allora in generale abbiamo cercato di raccogliere gli argomenti un pochino più recenti più freschi più appena sfornati del periodo e non so quanti di voi sono a corrente di quello che per esempio per dirne una sta accadendo in questo momento nel mondo dello sviluppo di videogiochi perché è nata una grossa importante polemica legata a un motore grafico videoludico chiamato Unity che ha scatenato una diciamo per una serie di politiche intraprese da Unity stessa come ente di imporre delle tariffe sui sui videogiochi su tutto ciò che viene sviluppato da questo motore grafico che ha causato delle polemiche soprattutto dalle piccole aziende che mettono su diversi diverse idee diversi videogiochi diverse perle che possono poi nascere diventare anche qualcosa di più importante come giochi AAA eccetera eccetera che loro invece non sono intaccati perché non utilizzano Unity poi un altro argomento che è un po' ha scatenato l'ira tra virgolette ma questo un po' meno diciamo rispetto al precedente e ciò che è successo con l'arrivo di contenuti aggiuntivi di Cyberpunk che diciamo che quando è uscito il gioco era come se non fosse uscito era in una versione molto primordiale piena di bug e in generale da questo pensiero ne nasce che c'è questa necessità di tirar fuori i giochi quando ancora sono in cantiere perché si fa si può anche immaginare il motivo perché cercano di come dire cominciare a trarre beneficio dal mercato anche se con gravi danni poi per l'immagine di quello che fanno i famosi accessi anticipati esatto anche la questione degli accessi anticipati che diciamo che se tu lo definisci accesso anticipato comunque dai un'idea alla persona che il gioco non è rilasciato invece Cyberpunk è stato rilasciato completamente in vendita con il prezzo pieno ma era come se fosse accesso anticipato per come era poco diciamo stabile che ha anche causato e tra qui tra le altre cose c'è anche un riferimento perché per un gioco che non so se alcuni di voi conoscono ovvero Fallout 76 che con la stessa con la stessa idea ha causato problemi molto peggiori a chi utilizzava quel videogioco per darvi giusto uno spunto c'è stato un periodo in cui se installavi Fallout 76 c'era il rischio di avere un errore che ti corrompeva l'hard disk giusto per dirne una giusto hai ripestato proprio una cosa mi sono documentato su questo è stata una cosa che io io me lo ricordo eh tutto lo ricordi perfetto e poi un altro argomento che ci siamo conservati e che in generale in particolare ho visto anche io con l'uscita non so se avete visto di Assassin's Creed Mirage che è uscito da pochissimi giorni l'idea anche che il mercato dei videogiochi in generale delle tecnologie sta lasciando molto spazio agli influencer per fare la dei zero la dei meno uno la rilascio di qualche settimana prima per far scoprire il gioco quando invece una volta questa cosa la facevano solo i giornalisti cosa è successo cosa può essere accaduto di così tanto forte da non affidarsi più ai giornalisti per le valutazioni ma affidarsi agli influencer la domanda è abbastanza facile come capirete però quello che nasce tu mi vuoi far bannare oggi no no beh ho detto degli influencer calma no 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 poi se mi arriva poi se mi arriva l'influencer e gli dice è perché io ho la possibilità di farlo e dico beh venga vieni qua e spiegaccelo cioè al contrario dacci la tua opinione ci mancherebbe e poi un'altra cosa che invece non ci si infundo niente diciamo che sono in disordine però poi decidiamo noi come dirli e un argomento che comunque a molti anche in chat probabilmente piacerà è il fenomeno Baldur's Gate 3 che è diventato un gioco che sta facendo come dire sta facendo dare sta dando un'idea ben definita di quello che potrebbe essere il gioco dell'anno e quindi volevo anche volevamo anche parlare un attimo di questo Baldur's Gate che è un gioco che dietro questo contesto videoludico c'è anche una forte morale perché è nata questa necessità che in realtà c'è già da tempo ma con questo gioco è migliorata di avere una trama completamente personalizzabile quindi avere una storia che non è più unica nel suo genere ma cambia in base alle scelte del giocatore ecco vedi già c'è Mio che per esempio ci dice Baldur's Gate era un gioco già perfetto il 3 ha molto di quello che era e molto anche di nuovo esatto esattamente io ho avuto la possibilità di vedere il primo e il secondo e davanti in base alle scelte da sempre per esempio io ammetto che Baldur's Gate l'ho sentito ora perché c'è una risonanza maggiore lasciamo perdere che è pure un gioco a cui forse non mi sono mai avvicinato quindi probabilmente l'ho sentito e l'ho buttato nel dimenticatoio però è stato veramente ma veramente c'è stata una risonanza su questo gioco pazzesca o perché bazzichiamo un po' più Twitch o YouTube quindi con i video con le recensioni con ma veramente c'è stato una una critica tra virgolette sociale di che bello finalmente un gioco con una trama un bla 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 un bla 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 che poi approfondiremo quindi l'abbiamo ritenuto con un argomento da portare ecco esatto anche perché come dicono anche in chat Baldur's Gate come saga è sempre stato così cosa che è cambiato secondo me è cambiata la generazione perché tra il 2 e il 3 sono cambiate una sicuramente forse due generazioni e questo ha lasciato magari un buco di non conoscenza come il nostro Wainer stesso ha appena detto che magari conoscono altre un po' salve sono il buco esatto sono il buco esattamente quindi niente questi saranno gli argomenti che magari tratteremo in questo o in altri podcast anche perché non penso che riusciremo a trarli tutti pure secondo me pure secondo me diciamo che questi sono gli argomenti che vorremmo parlare poi ovviamente cacchio che ne parliamo solo di uno perché ci dilunghiamo ecco esatto allora va bene e io direi di partire proprio con io diciamo sul nostro piccolo canovaccio io l'ho voluto chiamare polemica unity sì ok perché essenzialmente è una polemica giusta o sbagliata questo poi lo affronteremo sì allora sì perché vai vai diciamo prima che cosa è successo per chi non sa che cosa è successo dopo un unity diciamo prima prima di tutto che cos'è forse però su questo ti lascerei la parola che forse lo sai meglio di me ok allora diciamo che l'ho visto in un corso di esame all'università ok unity anche perché allora per farvi capire unity io l'ho visto all'università spiegato da un assistente non dal professore dove sostanzialmente programmava un uno space invaders quindi un giochino con l'astronave dal basso che spara verso gli alieni così via ok ma dietro questa spiegazione esatto così si è molto di più perché unity è un ambiente chiamiamolo così un programma un ambiente di sviluppo che ti permette di avere un'integrazione grafica logica quindi puoi dare anche una logica a quello che avviene nel gioco e in generale anche di rendering dei livelli perché c'è un sistema che permette di importare degli asset ovvero per asset si intende un insieme di strutture del gioco che può essere una grotta con le sue texture può essere un bicchiere o quello che è tutto ciò che permette di costruire un ambiente piccolo grande che sia è definito almeno su unity anche su altri motori grafici asset e quindi ha questa integrazione di logiche degli asset per poterli integrare logiche di gioco quindi effettivamente quando spari a un bersaglio e quel proiettile arriva al bersaglio e fa un'animazione che fa saltare in aria del mostro riducendo la vita e così via ciao docchino e sostanzialmente tutta questa logica insieme forma unity quindi ti permette in altre parole di creare un vero e proprio giochino che nasce come giochina se sei uno sviluppatore può evolvere in qualcosa di più grande se c'è dietro un team o se esce dal progetto accademico considerate che molti giochi in indie sono fatti in unity se vi chiederete quali giochi sono fatti in unity non so se ci avete mai fatto caso ma alcuni giochi quando parte la grafica c'è la presentazione esatto c'è il logo che si avvicina verso i test compare quella è l'impostazione di default dei loghi quando avvi il gioco di unity se non lo modifichi compare il logo di unity quindi potete immaginare comunque la base che è quella e questo è unity poi sulla polemica e su cosa è successo lascio la parola a waynor che magari c'ha la numerica in mano lo vuole dire allora diciamo che a seguito di un cambio ai vertici ok perché c'è stato prima questo cambio ai vertici dell'azienda unity ok che io in questo momento effettivamente non so nemmeno se si chiama stesso unity o si chiama in un altro modo no no si chiama unity technologies perfetto così si sono svegliati un giorno dicendo ma sapete che cosa possiamo fare possiamo far pagare gli sviluppatori e chi poi comprerà il gioco una percentuale sul nostro codice esorgente che ne dite e tutti quanti oh che bello ovviamente questa cosa avrebbe dico avrebbe perché fortunatamente non è ancora in atto e penso che non succederà mai però questa è una mia personalissima opinione delle ripercussioni su chiunque in primis sullo sviluppatore che sviluppa il gioco appunto prendiamo prendiamo la casa indie che diceva prima cypher che spesso e voletire è fatto da una persona ricordiamoci sì una persona una persona dietro un gioco e basta vi basti pensare Undertale che è stato fatto da una sola persona che ha fatto musica grafica vabbè quello che è comunque logica e anche morale trama tutto 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 ha fatto tutto lui ma non è l'unico ti ripeto ce ne sono tanti di esempi avrebbero dovuto pagare allora io ho i numeri davanti li dico però non sono sicuro delle cifre tenete presente che io sto leggendo dice gli sviluppatori dovrebbero pagare 20 centesimi per ogni copia che viene installata del proprio gioco e in più io sapevo che si doveva pagare un diciamo un mensile o comunque la licenza per il tutto il pacchetto di sviluppo sì sì c'è anche un costo aggiuntivo della licenza ma è quello diciamo che può essere o annuale o mensile forse c'è anche l'unatantum per grandi aziende come fanno tutte le license dei programmi diciamo esatto esatto anche Photoshop ce l'ha una cosa del genere per dire Acrobat Word Microsoft tutti ce l'hanno questa cosa tutti ce l'hanno anche Office esatto quindi diciamo che non sarebbe un'idea così lontana dagli standard attuali ma avrebbe ripercussioni sul mondo videoludico perché ovviamente il programmatore si vede accollare un prezzo ok iniziale che che lui dovrà comunque un minimo recuperare eventualmente va bene però mettiamo caso che sono il fatto del prezzo qua invece non ci sta scritto vedi allora sostanzialmente il fiatto è che 20 centesimi per ogni download no quello è il download io invece volevo il prezzo di quell'altro ha il prezzo effettivo aspetta che te lo recupero io però diciamo che è una una licenza che in generale ti permette di accedere effettivamente non tanto allora qual è il fatto prima di questa modifica come funzionava il costo di unity allora tu avevi una versione trial di 30 giorni che se non avevi assolutamente nessun tipo di agevolazione ok che ti permetteva come fanno tanti programmi di conoscere il programma stesso e capire come funziona ma se volevi sviluppare a livello universitario c'erano anche delle licenze legate alle università che ti permettevano di avere accesso allo sviluppo del gioco ma non al rilascio cosa che io stesso avevo legato alla mia università quando studiavo invece se tu lo trovate comunque se tu vuoi utilizzare unity a livello di come dire licenza ci sono due modi di pagarlo mensilmente o annualmente allora qua dice 2040 dollari per sit per seduto che significa per studio quindi se io ho un computer che permette di sviluppare un gioco quindi avere la postazione del grafico o del designer o dello sviluppatore quella postazione costa 2040 dollari all'anno o 185 dollari al mese non lo trovavo perché non avevo proprio idea diciamo del prezzo sono andato sul sito è fatto bene è fatto bene si possono avere una due tre quattro cinque postazioni quindi capirete che già se io persona indipendente voglio mettere su un team pago una licenza per risparmiare o massimo due e devo pagare 2000 dollari esatto devo pagare due postazioni non è facile una postazione sono 2000 due postazioni sono 4080 dollari che mettere davanti questi soldi a volte è un rischio perché chi me lo garantisce che ci rientro la cosa però è se tu sei già un'azienda avviata o comunque un minimo avviata questa diciamo questo costo lo fai rientrare nella lista delle spese perché in generale se tu pensi che è un download no no ma guarda che il conto si fa perché se tu sviluppi il gioco in sei mesi non fai l'annuale fai il mensile e già lì gestisci meglio capito però è chiaro che se tu sei un'azienda piccolina in generale già hai qualche difficoltà devi sforare su Steam per poter fare una cosa del genere perché su Steam se tu hai la possibilità di farti accettare il gioco tramite un processo che tra le altre cose è anche cambiato quindi non conosco neanche tanto bene e metti il gioco direttamente su Steam già hai qualche possibilità e loro facevano giustamente a ogni acquisto metti un prezzo 15 10 20 euro quello che è e già con quello provi a pagare la licenza e qua invece io ti fermo perché se invece sei un diciamo uno sviluppatore di giochi indie che non te ne sbatte minimamente i coglioni di metterlo diciamo su Steam su Steam o comunque farlo pagare ok in generale ma lo metti free to play esatto perché tanto a te non te ne frega e là ci sarebbe stato il problema perché i costi sarebbero ricaduti tutti sulla casa di sviluppo o sul programmatore l'utente finale non avrebbe pagato niente ma per ogni download per ogni diciamo giocata va bene e in più aggiungeteci i costi per l'applicativo per svilupparlo si sarebbero creati diciamo dei mostri dei mangiasoldi ok sotto quell'aspetto loro si sono giustificati all'inizio dicendo no ma ci saranno delle soglie un tetto massimo quello e quell'altro però il problema almeno dal mio punto di vista è proprio la filosofia di base perché già credo che il mondo videoludico sia abbastanza zoppicante ok sotto un aspetto dall'altro tu così gli dai la mazzata proprio gli spezzi l'altra gamba ecco che sono i giochi freeware che si il 90% sono uno schifo fanno schifo e quant'altro ma sono divertenti alcune volte sono quello schifo che ti fa ridere io stesso sono il primo che ride e scherza sulla questione giochi brutti che mi piace tantissimo certo ecco con questa nuova tariffa che ricordiamo essere di 20 centesimi a download quindi basandosi non più su questa licenza che vi ho detto di 2000 e passa dollari soltanto per poterlo sviluppare ma anche un costo aggiuntivo di ogni download 20 centesimi che immaginate fortnite perché l'esempio è eclatante ok ma lasciate perdere che l'azienda che c'è dietro cioè epic in questo caso ce le ha i soldi non è che non ce le ha non stiamo parlando di cifre esorbitanti solo con un gioco poi loro dicono ok man mano che i download aumentano la tariffa diminuisce qua dice che fino a 200.000 dollari la tariffa scende poi a 15 centesimi a download per poi farla diminuire fino a un milione di download con due centesimi a ogni download ma diventa una tariffa fissa questo cosa significa che mi va ad ammazzare le piccole le piccole compagnie che cercano di creare videogiochi e fruisce senza intaccare particolarmente sulle grandi aziende come ha detto per esempio Wainer su Fortnite supponiamo che è stato fatto in Unity guadagnandoci su ogni download del gioco quindi immaginatevi la quantità di persone che hanno i ragazzini le persone che giocano a Fortnite loro ci ricavano qualcosa questo cosa causerà secondo te Wainer secondo me che abbandoneranno tutti i Unity e passeranno all'altro motore grafico che adesso parliamo io invece credo che potrebbe diciamo non andrà mai in porto questa cosa te lo dico io perché significherebbe che tutti mollano la carriera da sviluppatore di gioco e si mettono a fare pornografia VR in qualche modo ok quella vende è quella vende ok quindi sparirebbero completamente i free to play sparirebbero completamente i programmatori in erba le case piccole ci stava il gioco come si chiama cult of the lamb ok che è stato sviluppato da una casa minuscola e ha avuto un successo clamoroso quel gioco sparirebbero tutte queste piccole perle undertale per fare la prova ma in realtà se ne vuoi anche altri che svilupperebbe se vuoi altri nomi genshin impact hollow knight rust caped pokemon go cioè ragazzi pokemon go neanche lo diciamo che caspita di numeri che ha avuto e che ha ancora in realtà però cioè si parla di giochi infatti anche ross stessa è stata la prima a polemizzare su questa cosa perché li ha ammazzati praticamente tutti gli sviluppatori e quindi tutto diciamo questa ambaradam adesso io passo alle mie diciamo considerazioni molto personali secondo me è completamente infattibile se dovevano se diciamo pensavano di dire ma noi ci stiamo andando a rimettere allora questa doveva essere una scelta iniziale cosa potrebbe fare diciamo unity come azienda unity technologies sfornare un qualche piccola variante ok di del motore grafico o del sempre lo stesso non deve essere necessariamente qualcosa di nuovo non è che ti devi reinventare tutto da zero però metti la versione free che fai quello che cazzo ti pare a te e poi ci sta una versione con dei costi che ti permette di portare un livello più alto il videogioco quindi il programmatore ha anche dei delle migliorie va bene sul gioco e eventualmente dei guadagni perché ovviamente più il gioco può essere bello o comunque affidabile o comunque con qualche aggiunta intrigante più può essere monetizzato e quindi guadagnarci anche all'oro di conseguenza mettere in modo trasversale una tassa perché alla fine parliamoci chiaramente per me questa è una tassa ok è completamente sbagliato e darebbe quella mazzata finale come ho già detto al settore dei videogiochi che già sta molto claudicante ecco già sta con le stampelle stanno a zoppicare stanno a zoppicare poi non le piccole stanno a zoppicando le grandi che purtroppo lo vediamo ogni uscita di un gioco e un madonna mia speriamo che sia bello il gioco altrimenti chi cazzo se lo incula ok esatto esatto e quello sta girando infatti come principio c'è molti giochi che stanno uscendo nell'ultimo periodo non è più oh mio dio non vedo l'ora di giocarlo ma le opzioni sono due o è un sequel quindi oh mio dio speriamo che non l'abbiano smerdato rispetto a prima come sta succedendo appunto con l'ultimo gioco che ho visto uscire Assassin's Creed che è l'ennesimo per dire oppure c'è l'effetto oh mio dio speriamo che sia veramente come lo stanno facendo vedere perché c'è anche questa illusione che ti danno nei trailer non tanto quelli fuori diciamo le fiere ma quelli che fanno agli eventi alle 3 al Games Awards non so se li avete mai visti anche su Twitch ce li fanno ogni tanto sono luoghi le 3 che non non esiste più le 3 è incredibile sì ma non esiste più l'entertainment non esiste più è vero quindi non lo so se loro lo conoscono effettivamente è vero l'entertainment si chiamava le 3 era probabilmente il Luca Comics del mondo dei videogiochi a livello mondiale però e c'era solo lui c'era solo lui esistevano le conferenze Microsoft e la conferenza bla 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 però poi c'era quest'unico punto di incontro dove tutte quante anche le più piccole potevano stare in questo luogo che poi si decideva che era anche importante perché all'interno di questi eventi non era solo un evento per il pubblico per il consumatore finale ma venivano anche plotoni di investitori di piccole medie imprese che investivano appunto di produzione su questi giochi quindi vedevano i 3 le verdevano tutto quanto e uscivano fuori con ok prendete i nostri soldi mi hai fatto immaginare la scena che arriva che ne so Microsoft con la valigetta piena di soldi arriva sul bancarello diciamo fatto di cartone e questo mamma ti voglio comprare la 24 ore esatto esattamente tu adesso sei mio esatto ti compro all'asta proprio era più o meno così l'entrattenimento perché una volta la vera sfida non era conquistare il cliente finale ma conquistare la diciamo la casa di produzione che permetteva di finanziare il gioco e farlo diventare quello che poteva nascere come un indie che non aveva mercato ai tempi in un tripla in un gioco che noi oggi chiamiamo tripla che in realtà si traduce in hey noi siamo l'azienda che abbiamo lo sponsor della Sony facciamo il gioco della madonna let's go sì anche perché poi comunque diciamo forse il fine proprio più basso era la presentazione dei giochi sì io secondo me il fine anche un po' così ovviamente tra le big era flexare la potenza nel senso ciao sono playstation ti è questo è il mio braccio muscoloso e questo puppati questa nuova console Microsoft però era verso l'altra azienda rivale capito non era mai per dire oh guardate comprate la mia cosa che invece sta succedendo ora adesso è tutta indirizzata verso di noi cioè le aziende un altro po' metteranno i venditori porta a porta ti prego non puoi comprare la playstation l'xbox compra questa ti prego e anche questa cosa ti fa mi hai fatto pensare una cosa una volta effettivamente le le fie diciamo gli eventi internazionali erano legati al videogioco adesso è al contrario sono le case produttici che fanno la loro conferenza c'è la conferenza della sony la conferenza della della microsoft della bedesta e così via ma questo è il motivo per il quale l'E3 non ha trovato più fondi perché playstation è stata la prima a mollare tutte le varie cose ha detto con voi non ci voglio avere tipo come quando si divorziano marito e moglie sai che dicono io non voglio sapere più niente piglio le mie cosine e mi sposto di casa esatto me ne vado di casa e quindi là è un introito da parte dell'E3 che già non c'è più e rimanevano ovviamente le piccole o comunque quelle poche che spesso e volentieri non volevano nemmeno più partecipare e quindi gli organizzatori dell'E3 hanno detto signori cari mi dispiace ma non si fa più fatevene una ragione fatevene una ragione sì è successo questo per le piccole adesso che cosa c'è c'è la games week allora no le piccole a parte allora le piccole vengono o violentate moralmente da un principio molto semplice del ehi c'è una conferenza super giochi incredibili e poi abbiamo questo 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 e questo buona serata succede questo alla fine di una conferenza fanno una carrellata di giochi che neanche hai capito che gioco è nomi buttati a cazzo però noi ce l'abbiamo perché col game pass tutte queste merdine che non contano un cazzo un giorno potrebbero valere ma solo col game pass quindi inculati se non puoi pagarlo e tu piccolo amante dei videogiochi che succedeva succede succedeva questo vabbè tu stai parlando della presentazione microsoft no io stavo parlando di quella non marchiata diciamo da da appunto dalle case grandi ah dici quelle più piccole eh quelle più piccole ci sta allora proprio la la conferenza indie che però non mi ricordo come si chiama allora sì mi ricordo anche io sono singole conferenze eh ma il problema è quello il fatto è che tu hai detto la conferenza dei giochi indie però hai dimenticato il contesto perché una di queste conferenze dei giochi indie l'unica che finora ho visto è nel summer game fest quindi sempre nel padiglione di diciamo di conferenze dici ma allora quella indie è per conto suo non proprio è sempre comunque supportata dalle altre conferenze magari non la stessa la indie non ha tutta questa potenza di potersi sponsorizzare non ce l'ha per questo tornando al discorso iniziale perché altrimenti deviamo completamente il costo di unity è una follia ecco io io metto il punto sul mio pensiero personale ecco con questa lapidaria frase ecco io la vedo hai presente quando si vede non so se ci sei mai stato ma almeno nei documentari si vede grosse formazioni di ghiaccio nel polo nord e poi c'è un pezzo del ghiaccio che si stacca ecco quel pezzo di ghiaccio che si stacca è il mercato dei giochi senza una speranza di farsi pubblicizzare che va alla deriva e si va a perdere fino a sciogliersi mentre il blocco resta ancora lì ma piano piano scavando il ghiaccio finisce H finisce la possibilità esatto se ne cadono anche i pezzi esatto e per metaforicamente parlando si intende dire che facendo questa manovra le piccole aziende non possono nascere facilmente se non vengono supportate dalle grandi aziende quindi cosa devono fare i piccole aziende hanno ancora una speranza di poter fare tutto questo è rimasto un ultimo scoglio di salvataggio che non ha comprare da microsoft no quella è la mossa finale che fa un imprenditore non per forza e c'è un altro motore grafico che questa cosa non ce l'ha e che sta dando al contrario sta giocando sul gioco forza di unity per poter acquisire nuovi sviluppatori che se ho capito bene non so se lo vogliono fare lo hanno già fatto o lo faranno veramente vogliono fare diventare la licenza pagamento di parlo di Unreal Engine da pagamento a un fai il gioco vedi come va e poi paghi la licenza ho letto qualche articolo dove volevano fare questa manovra per fare in modo che tutte le aziende indie potessero fare le loro idee e questa cosa l'ho saputa anche da un mio collega che fa anche sta studiando a livello di sviluppo videoludico e ha detto sai che c'è io passo a a Unreal Engine che significa ricominciare da capo il mio lavoro ma a parte avere una qualità grafica un livello sopra un livello sopra Unity almeno come punto di partenza ma anche avere questa idea di lasciare più spazio alle aziende indie di di fare di creare giochi e poi vedere come va non so se è antiva so che comunque la licenza di Unreal è un po' più costosa e non c'è la versione studenti quindi noi noi io ho un ex universitario ma gli universitariani in generale sei vecchio sei vecchio sono passati solo tre anni da quando mi sono lavorato sei vecchio sei vecchio vieni nel mondo dei vecchi per l'amor del cielo no no come ho detto sempre decido io quando invecchiare glielo faccio sapere alla nagrave quando invecchiare il capello bianco non glielo puoi non lo puoi ordinare però dimmi dov'è dimmi dov'è tu non ce le hai in generale quanto sei è bene così vabbè e quindi quindi questa è la situazione questa è la situation comedy questa è la situation comedy diciamo che io ho anche un po' paura comunque di tutto questo come consumatore perché dal mio punto di vista è da parecchi anni che non sto trovando un gioco che mi prende a pieno perché allora parlando anche di bardo's gate così switchiamo anche argomenti vedi come scambio argomenti io però ti volevo fare una domanda prima di passare a bardo's gate no no finisci il pensiero no io pensavo semplicemente non sto trovando io consumatore un gioco che mi affeziona particolarmente il che penso sempre come la penso io la possono pensare anche altre persone io l'ultimo gioco bello che mi è piaciuto e che mi ha preso a livello più che altro di storia in generale e death stranding kojima il gioco di kojima è l'ultimo gioco che effettivamente mi ha preso bene adesso con l'ice of p mi sta cominciando a interessare infatti penso che lo prenderò anche io perché già avevo intenzione di prenderlo ma per vari motivi poi non l'ho preso motivi finanziari più che altro ho avuto un po' di difficoltà ma penso che anche io ed è proprio questa la domanda che ti volevo fare è proprio questa la domanda secondo te i costi dei videogiochi diciamo che ci può portare ecco ci può traghettare da un discorso all'altro questa cosa si si è veramente così tanto giustificato l'aumentare anche di così tanto di prezzi ti faccio un esempio ti faccio un esempio ultimamente si era parlato di rockstar che con gta 6 per rientrare dei costi iniziali ok quindi della messa in campo del gioco si parlava del costo di una singola copia di gta 6 di 100 euro ok allora diciamo che la scelta del prezzo è un po' come mettere diciamo la firma su quello che tu fai perché se io vedo qualcosa un un bene ok che vale 100 euro io posso pensare che valga 80 euro come un'altra persona può pensare che valga 200 euro quindi 100 euro è una falla e il il ciò che mi dà 100 euro che fa la differenza secondo me quindi ha senso aumentare il prezzo allora se si parla di contesto carovita che tutto quanto nel mondo sta aumentando di costo per vari motivi nel mondo videoludico non ne vedo la lontana necessità perché comunque in generale non vedo questo grosso impatto ci fosse stata la crisi del silicone come è stato durante il periodo del covid ok mi aspettavo lì un aumento dei prezzi perché per poter fare un videogioco e critica critica così sbuttata così ho visto manco a farla apposta ieri sera il costo di una 40-70 è diminuito ma di un botto proprio cioè no sense quindi che fine ha fatta quella crisi l'abbiamo superata bravo bravo non se ne parla proprio più non si sa più niente proprio ecco stesso principio dei videogiochi arrivano adesso tirano sul prezzo perché qual è il motivo cosa hai tirato fuori se adesso la rockstar se ne esce con 100 euro su una copia le cose sono due o mi dai un contenuto da 100 euro nel senso che mi fai un gioco incredibile ma mi aggiungi per esempio anche molto più contenuto sul ramo roleplay che è una cosa che mi aspetto dalla rockstar dopo l'ultima cosa che ha fatto e qua ti tiro fuori un argomento sotto banco ovvero non so se se sai che l'anno pixel di 5m di 5m di 5m di 5m di 5m di 5m oppure un altro motivo per i 100 euro è che ti fanno il incluso il season pass perché se ci hai fatto caso GTA nel periodo ha fatto delle aggiunte di contenuto di ESC quest'altra cosa di ESC che tirano fuori tutto su GTA online che appunto spesso e volentieri comprati il base ed avrai la splendida macchina oppure comprati ed avrai i costumi così compra anche quello e potrai avere cypher ludica suggerire non ti dico in che posizione però sai che possono usare come arma comunque è allora è giustificato comunque l'aumento dei videogiochi onestamente no cioè io non lo vedrò mai se non mi date il motivo per cui questo prezzo aumenta cioè io sono abituato al 70 al Day Zero 60 all'uscita ufficiale poi scende al 50 se il gioco è andato abbastanza bene e a 40 a 30 se il gioco è stato uno schifo ma ma più avanti nel tempo se io sono andato per curiosità a vedermi il mio videogioco preferito Kingdom Hearts 3 che è andato all'uscita è andato abbastanza bene nella seconda fase è fatto schifo perché tutti quanti sono arrivati al finale e poi è rimasto lì costa ancora sui 40 e passa l'euro costa ancora 40 euro se io cerco Kingdom Hearts 3 sì ovviamente nei giochi cioè nei siti ufficiali tipo GameStop e quant'altro è valutato ancora intorno ai 40 euro salvo cambiamenti particolari ora la cosa è il fatto è che questo questo tipo di merchandise ha invece su G2A ecco sui siti online la chiave invece del gioco la trovi dai 10 ai 20 euro perché probabilmente hanno acquisito le offerte e quant'altro però se vai in un negozio dove effettivamente il prezzo è quello della fabbrica ti costa sempre quello quindi diciamo che in generale il prezzo di un videogioco è diventato un po' la come dire il volante ok di ciò che può succedere al mercato perché se io per esempio sono la Sony e ti creo God of War 12 l'ultimo che deve uscire che non è uscito cioè non ne stanno annunciando altri ma se ne escono fuori con noi come gioco lo facciamo costare 80 euro non è che l'utente finale dice cazzo 80 euro non me lo posso comprare dice ok devo aspettare un po' di tempo che scende e me lo compro ma tutti hanno questo discorso cioè io sono il primo che dico no vabbè ma non me lo compro aspetto un poco esatto cosa succede alle altre compagnie è che tutti gli altri mettono 80 euro perché se l'ha fatto la Sony lo posso fare anche io perché tanto il ragionamento che fa il diciamo il consumatore finale come lo fa per la Sony lo fa per tutto il resto invece quello che io direi sì me lo compro subito non è il gioco ma il dispositivo che ci sta dietro cioè io ho visto gente che sta impazzendo in America per poter prendere il il visore della Apple dove ci voglia integrare i videogiochi e il prezzo che hanno messo loro è un prezzo che supera le 4 4 0 il vabbè la questione visore per me apre tutto un altro scenario diciamo che in questo momento credo che almeno sicuramente noi in Italia non siamo proprio attrezzati ok anche semplicemente proprio come connessioni di internet perché non non ci siamo non reggono hanno bisogno come anche l'Xcloud per intenderci tutto quello che loro che Microsoft anche vorrebbe fare non ci abbiamo le infrastrutture in questo momento credo cioè noi spesso e volentieri ci crasha semplicemente con un OBS due Discord e qualche live aperta io facendo una condivisione a StreamShare l'altro giorno quando ho fatto lo streaming non potevo giocare con con nessuno perché mi ha laggato per quello ciao Ludo e quindi per me diciamo la questione VR in questo momento la vedo ancora troppo lontana almeno da noi e poi comunque era un esempio sì sì hai fatto benissimo figurati per la questione giochi invece io ti dico che loro possono aumentare il prezzo a quanto vogliono perché ovviamente la casa produttrice che detta il prezzo per me lo puoi mettere pure a 500 euro un gioco tuo rischio è pericolo che nessuno se lo compra quindi tu non solo non invogli a comprare ma rischi di fare l'inverso di quello che hai fatto per tutto questo tempo perché ricordiamoci GTA 5 su 20 anni no ha fatto 10 anni proprio l'altro giorno è campato 10 anni e ci hanno guadagnato un fottio di soldi un fottio aspetta i primi 5 anni sì gli altri 5 anni non è stato GTA in sé allora aspetta il problema ne era uno è che sai che cosa continuava a farlo stare sempre in top il fatto che cambiavano le console perché GTA 5 è stato quello che ha visto se non erro aiutatemi pure voi chat playstation 3 playstation 4 playstation 5 e di conseguenza tutte le le console xbox che mo non me le ricordo perché non sono amante di console forse xy non mi ricordo io non ho mai avuto e tu per ogni singola console quindi passaggio di generazione te lo dovevi ricomprare il gioco cioè adesso nelle ultime hanno iniziato a fare la retro compatibilità ma anche Red Dead è la stessa identica cosa te la devi ricomprare la copia se la vuoi e quindi grazie al secchio che è probabile che una persona l'ha comprato sette volte il gioco sì esatto certo mi hai fatto ricordare per esempio un pensiero che ho fatto io stesso io ti ho detto prima che Death Stranding mi è piaciuto tantissimo ce l'ho per la ps4 che io ho la fat ricondizionata della game stop ma avrei avuto il piacere di giocarlo al pc ma io onestamente 50 svelle per un gioco che ho già giocato non lo voglio fare non lo voglio prendere non hai riscattato il gioco gratis su epic forse sì forse l'ho riscattato sei un pirlottolo forse ce l'ho su epic però il ragionamento è se non ci fosse stato epic che tra l'altro ecco bella mossa per esempio mi fai uscire un gioco della madonna incredibile che costa 60-70 euro l'anno dopo epic te lo dà gratis che cazzo me lo compro a fare esatto scusami ma io aspetto epic quindi la mia mossa del 100 euro il gioco io non lo metterei mai anche se ci devo rientrare di poco con i guadagni va bene quindi mettendolo comunque a 50 euro perché meno di 50 è follia per quanto cioè no non è e tanto poi bene o male lo regalano lo fanno fanno le sponsorizzazioni ci stanno lo trovi su online lo trovi su internet in qualche modo lo compri hai capito? certo certo quindi che cazzo me la metti a fare 100 euro guarda ti dico ti dico di più stavo pensando di intanto con me allacciarci gli altri argomenti però mi è venuta in mente una cosa sai perché stavo pensando di cominciarci gli altri argomenti? perché ho detto siamo sulla settore pagamento e quant'altro videogiochi ti tiro fuori un pensiero se devo spendere 60-70 euro anche 100 euro chi mi dà la garanzia che al primo giorno il gioco funziona? senza bug senza problemi un pensiero che molti fanno è io non lo compro il gioco a day one perché è pieno di bug sicuramente soprattutto se è dell'auto e questo è il problema che c'è stato con il famoso cyberpunk ok che purtroppo a me dispiace dirlo perché io l'ho giocato uno mi è piaciuto mi sono divertito mi è piaciuta la storia due non ho acchiappato problemi ma perché? perché l'ho avuto tardi tra virgolette quindi tutti gli aggiornamenti tutte le patch tutte le cose tutte le migliorie quindi io non ho avuto problemi e non ho vissuto quel disagio del cazzo non funziona niente eh no perché tu hai fatto la mossa che farebbe un consumatore uno squattrinato perché io sono squattrinato ma non per forza ma non l'ho pagato 70 euro cyberpunk vero ma anche se tu avessi avuto quei 70 euro non ti saresti incazzato a spendere 70 euro con un gioco che non funziona al primo giorno sicuramente ma infatti se pagavo infatti io l'ho pagato 20 euro probabilmente qualche bug ci sarà pure stato non mi sono incazzato perché l'ho pagato 20 euro esatto e questo è l'aggiornamento che stanno facendo tanti anche chi può permettersi un gioco a 70 euro a meno che non è un fan spiegato cioè io lo comprirei subito Kingdom Hearts all'uscita perché mi piace un sacco la saga e perché voglio assolutamente giocarlo e poi scopri che Topolino ha tutte tutte le sagome ecco l'ha listritolo tutti lui quel gioco lì ha avuto un problema ben più grave non ha avuto problemi di texto ha avuto problemi di trama e quello non lo puoi sistemare hai però diciamo che in generale molta gente sta facendo così anche chi ha una diciamo possibilità economica maggiore perché si sono rotti le balle di avere un gioco che è incompleto o mi fai l'accesso anticipato gratuito e me lo fai provare o anche a pagamento che poi magari mi dici guarda avrei preferito un cyberpunk uscito quando è uscito in accesso anticipato che me lo pagavi a o meno ok e me lo facevi giocare mentre era in merda ok ma poi man mano che il gioco veniva sviluppato magari chi non l'aveva comprato accesso anticipato si beccava al prezzo pieno chi invece aveva accesso anticipato ha detto ok siamo arrivati a questo punto del gioco mo devi pagare per andare avanti nel gioco paghi magari un pochino meno ok se hai pagato 20 euro te ne faccio pagare altri 50 per integrare il gioco una cosa che ha fatto per esempio Subnautica Subnautica quando è uscito non mi ricordo il prezzo che aveva ma mi ricordo che ha fatto un reboot 40 euro più o meno 40 euro 40-45 perfetto Subnautica Subnautica ha fatto un reboot al secondo anno primo anno comunque dopo un po' di tempo lo hanno completamente rifatto a livello di trama a livello di gameplay e hanno aumentato il prezzo e hanno aumentato il prezzo quindi chi aveva già giocato al gioco precedente aveva supportato il progetto si è tenuto il gioco così com'era e si è ritrovato un repatching che ha modificato il gioco lo riproviamo un altro già è Subnautica 2 solo che non è Subnautica 2 ok invece chi non ci ha creduto tra virgolette ha detto ok allora il gioco adesso te lo compri 70 euro ma non era 40 e ti incuri l'abbiamo cambiato e mi spiace guarda adesso c'è il pupazzo che fa cucco e tettè esattamente no ma comunque come dice anche Miu molti giochi campano anche di DLC esatto il DLC è un'altra cosa perché diciamo che il DLC e il fix dei bug vanno così a braccetto le cose esatto anche The Sims ma io c'ho tutti i The Sims 2 però ti posso dire che EA ha fatto una mossa splendida EA ha fatto una mossa gratis ha messo il gioco base gratis ha detto io il gioco base te lo do gratis giocatelo come cazzo vi pare non c'è niente perché non c'è niente nel gioco base vi dovete comprare i DLC il pacchetto completo dei DLC costa 1700 euro anche se anche di la EA lo so perché Berlix è una fan sfegatata Ludo lo sa la fan sfegatata di The Sims ogni tanto fanno le offerte seasonal nel senso è arrivato l'autunno il pacchetto delle stagioni costa il 50% di meno oppure siamo sotto Natale il pacchetto completo di 5 DLC te lo fanno a 40-50 euro ma chi è fanatico nel senso buono del termine che gli piace proprio il gioco i pacchetti se li compra perché ci sono i modi per comprarseli ok però l'idea di base di EA è stata proprio una mossa vincente è stata veramente una bella mossa anche apprezzata da chi tipo come me non lo gioca dai tempi di The Sims 1 per la serie ok ok avete fatto bene bravi imparassero da voi gli altri perché avete fatto veramente una cosa bella ma i giochi che si possono permettere questa tipologia di cosa sono pochi sono veramente si contano sul su una mano il palmo di una mano si per quello poi ricollegandoci al discorso così cambiamo discorso diciamo andiamo il gioco senza bug e là è sempre una mossa diciamo di rientrare dei costi perché parliamoci chiaramente quante ultimamente i famosi beta tester ok che ho gli alpha tester addirittura però le figure professionali sto parlando io non le vedo più perché il beta tester veniva pagato per provare il gioco scovare i bug e riportarli se non addirittura che era un diciamo dentro al team di gioco se lo aggiustava pure tra virgolette va bene sto parlando poi delle case più piccole però le case grosse così facevano ma ti sto parlando di dieci anni fa ovviamente assumevano questi giocatori gli facevano firmare il contratto di fatevi cazzi vostri e non dovete divulgare niente giocatevi il gioco e fateci sapere che cosa adesso non esistono più adesso i beta tester siamo noi esatto ma non solo ti dico anche di più la catena originale ok era sviluppo completamente lo sviluppo presentazione alla casa produttrice acquisizione della casa produttrice rilascio ai beta tester che i beta tester avevano un contratto di vincolo come diceva Weiner di non poter divulgare nessuna informazione sui giochi anche se poi abbiamo scoperto che alcuni lo facevano passaggio ai giornalisti e quello è stato il primo anello che si è rotto quando è uscito ha fatto scalpore il video del giornalista che giocava a Caped non me lo ricordo ok sostanzialmente è stato dato dopo che è stato fatto il beta testing è rilasciato il gioco interno ai giornalisti per poterlo recensire perché poi c'era anche c'è anche il ramo della recensione che una volta era prima di tutti dicevano gioco 8.10 compratelo appena esce ok 8 su 10 è sparita tutta quella fase iniziale di beta tester recensioni esatto ripeto siamo diventati noi sì 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 ma perché però sul beta tester per un motivo di alcuni hanno sgarrato hanno fatto i figoni e hanno pubblicato alcuni giochi contro violando queste cose quindi le case prodotti ci hanno detto mi sa che non ci dobbiamo più affidare a questo anello di lavoro e facciamolo fare a consumatore finale anche per ridurre i costi perché tu un beta tester lo paghi esatto per fare queste cose adesso adesso non c'è più cioè non esiste il beta tester che viene pagato non esiste più non c'è più anzi paradossalmente qualche volta il beta tester supplica dire me lo fai provare per favore in andeprima esatto si è capovolta la richiesta di questa cosa ma anche i giornalisti c'erano anche i giornalisti i giornalisti non hanno più allora sono rari i casi io ho sentito che in questo momento solamente Ubisoft sta continuando a fare ma non ai giornalisti agli streamer eccoci l'invita su sessioni ultra blindate ultra protette non mi addentro nei dettagli ma io ho visto come lavora Ubisoft sotto questo aspetto perché c'è stato un bellissimo documentario sotto questa cosa quindi ha fatto vedere a livello tecnico come facevano provare i giochi e permettevano anche di registrare ma erano loro Ubisoft a registrare la sessione e poi ti davano il video ok e per poi farci la recensione sopra si si era una diciamo un modo diverso di operare ma è l'unica che io ho sentito che fa così basta e l'ultimo gioco che hanno fatto così è stato non Assassin Creed ma come si chiama quell'altro oh madonna mia buco buio mentre cerchi ti dico secondo me non è che la Ubisoft è l'unica che lo fa ma è l'unica che te lo fa sapere perché ci sono altre compagnie che non fanno lo showcase la presentazione del fatto che facciamo provare il gioco a XY intanto Wayne ha perso ha un buco hanno cancellato il gioco che sto parlando ah perfetto perché hanno saputo che hanno saputo che ne volevamo parlare ho detto no no lascia sta facciamo uscire che cazzo hai combinato Watch Dogs Legion mannaggia la miseria ah Watch Dogs vabbè Watch Dogs ha avuto una sfortuna incredibile serve una patch per bueno sono ora le figure che pubblicizzano i giochi sì allora è per questo diciamo ho detto siamo diventati noi noi nel senso di consumatori noi poveri sfigati che stanno davanti alla web cam noi a fare tutto e poi a dentare anche un po' il mercato paradossalmente va bene perché voi lo lo potete vedere ok quando esce un nuovo gioco bello ciccione ok permettetemi questa domanda Twitch si monopolizza su quel gioco vedete tutti gli streamer che portano tutti lo stesso gioco e da un lato c'è anche la ah che palle sempre lo stesso gioco va bene sì quello è un'ottima un metro di mercato ok per capire dove sta andando diciamo come sta andando il gioco però Baldur's Gate l'hanno fatto ed è andata meglio di quanto si aspettava perché e te lo dico io perché perché ci sono stati molti non appassionati del genere che si sono affiancati a questo mondo hanno detto cazzo però è proprio bello questo gioco non solo perché secondo me sono d'accordo con il tuo punto di vista ma ti aggiungo anche un punto di pensiero la gente vedendo Baldur's Gate 3 andava in giro a vedere ma vediamo il percorso che ha fatto lui cosa cambia rispetto al mio perché nasce la curiosità della personalizzazione della storia aspetta però tu ragioni da utente e anche i giocatori di quinta edizione di D&D esatto giusto mio tu ragioni da persona interessata al percorso io invece sto parlando del proprio del di un altro dell'entry level dell'entry level generale esatto che che dice ah Baldur's Gate 3 cos'è Dungeons & Dragons no grazie e invece poi andandolo a vedere dice ma è veramente carino la storia è intrigante ti rimane un poco attaccato ma quasi quasi però Weynor la gente che dice ah D&D spuffa sta diminuendo perché la moda di D&D si è difusa grazie alla quinta edizione te lo dice uno che D&D si gioca dalla settimana allora sotto questo aspetto purtroppo io sono completamente ignorante va bene quindi io purtroppo non posso commentare ma bene ci sono un sacco di casual gamer e allora il problema ne è uno che voi in questo momento mi state parlando di quinta edizione io non so manco che cazzo è ma bene quindi quindi non ne ho propria idea di cosa state dicendo allora ti faccio ti faccio una macrovisione ma io rientravo in quella diciamo in quella metodologia che io ho detto cazzo D&D Dupal sarà il solito ti redà di sessioni quella e quell'altra poi andando a vedere invece come l'hanno sviluppato è fatto in modo un po' diverso nel senso che comunque te l'hanno data un minimo di di storia un minimo di racconti un minimo di intrighi un minimo di cambiare rimanendo ovviamente in un pattern definito perché non esistono infinite storie temporali va bene e rimanendo sempre però la puoi cambiare la storia quindi è rigiocabile ok ti faccio notare una cosa quelle due linee che hai messo tu sono vere ma sai che cosa sono queste due linee sono quello che giustamente non hai conosciuto e questa fantomatica come ho detto come vi ho detto anche in chat e come ti dico anch'io quinta edizione perché una volta questo range di movimento era molto più ampio perché Baldur's Gate 1 e Baldur's Gate 2 si basano su una logica di gioco su Dungeons & Dragons versione 3.5 dici ok 3.5 sarà come un programma si aggiorna no si cambia completamente ogni edizione cambia completamente cambia le regole di giocare Baldur's Gate 1 e 2 avevano un range di movimento molto più ampio perché la modifica del personaggio la costruzione delle abilità era molto più complessa e come ha detto anche il mio in chat D&D quinta edizione rispetto alla 3.5 uno si aspetta che sia più ricco invece è più facile ed è molto più facile questa ha data la possibilità di durre questo range di movimento perché hai molta meno personalizzazione ma farlo entrare nel mindset nella mentalità del giocatore che non ci sta a capire tanto di come si personalizza la build migliore ma che vuole il gioco che deve essere comprensibile a chiunque ma perché un po' è morta questa filosofia non ti sto dicendo che tu non ti impegneresti a giocarlo ma no no diciamo che io non mi impegno a giocare all'ASOP figurati se mi impegnerei a giocare l'altro scusami ah ok 3.0 ok ma il principio comunque sussiste su Baldur's Gate 1 e 2 che erano 3.0 siamo scesi comunque come difficoltà alla quinta edizione quindi cosa significa detto in parole molto spicce che anche l'utente che non ha mai visto D&D sbuffa D&D perché tutti lo conoscono e io non c'ho voglia ma vedono Baldur's Gate che è accessibile e dicono figo scopriamo Baldur's Gate e alcune persone paradossalmente passano a conoscere D&D grazie a Baldur's Gate quando una volta era l'opposto ma Baldur's Gate vendeva perché era su D&D adesso invece è il contrario è il contrario vabbè ma che poi il videogioco adesso forse è un po' più accessibile rispetto a D&D perché con D&D è un po' come all'epoca Magic ok il gioco di carte dovevi avere il luogo dovevi avere le persone dovevi avere dovevi avere tutto un contesto che spesso e volentieri non c'è va bene almeno per la mia epoca perché io paradossalmente alle superiori quando stavo alle scuole superiori io ero l'unico cretino che giocava ai videogiochi cioè tutti gli altri non lo so penso che trombavano già io invece videogiocavo ancora e quindi là c'è anche una tipologia di contesto va bene con Baldur's Gate 3 dice ti intriga D&D Baldur's Gate 3 ti permette di farlo ma di farlo tra virgolette da solo e quindi allora dici vabbè proviamolo poi là ti innamori e quindi poi spazi anche dall'altro lato cercando le sessioni online e tutto il resto quindi ci sta che è un mezzo di congiunzione ed è molto più facile perché ovviamente rimane pur sempre un videogioco che puoi giocare per cacchitua essenzialmente certo però è diciamo è la è il modo in cui si è parlato di Baldur's Gate perché ne hanno parlato della rigiocabilità perché puoi rigiocare e puoi percorrere sempre strade diverse il che mi viene da pensare che ci stanno comunque anche altri giochi che però non hanno avuto tutta questa risonanza eh perché ci sono altri giochi che puoi rigiocare e non hanno non ci sono le non è lo stesso percorso ma mettiamola così però non hanno avuto la stessa risonanza purtroppo ok però se vai a scavare ci sono e io le ho giocati non si parla in maniera critica in che senso scusami mio scusatemi voglio capire un secondo allora intanto mio mi diceva che il suo punto di vista va molto in contrasto con quello che ho detto io perché lei dice non è non è esattamente la meccanica che fa la differenza tra Baldur's Gate 2 e 3 ma è il regolamento quindi neanche il suo regolamento su cui si basa è il fatto che su Baldur's Gate 3 è quello che fa la differenza e che puoi controllare anche gli altri personaggi che hai intorno ok oltre ad avere questa è una questa è una meccanica che ti permette di fare perché c'hai più strade quindi modificando la tua modifichi anche per conseguenza pure la strada degli altri essenzialmente sì esatto penso che sia così non sono sicuro può far diventare telescopica la trama come sta dicendo Miu non è l'unico non è ora la novità c'è sempre stato sì sì c'è sempre stato Gate no lo sto leggendo già lo faceva ma ci sono tanti altri giochi che già lo facevano quindi sì c'è la novità c'è la risonanza ma non è una cosa nuova no no assolutamente quello quello non infatti la cosa riproduzionaria secondo me non è il gioco in sé è il periodo in cui è uscito è il periodo è il periodo quindi ci ricolleghiamo ancora a un altro discorso dipende pure da quando lo fai uscire il gioco ah beh certo 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 perché allora adesso non so esattamente quanti anni dal 2 al 3 ma sicuramente come dicevo prima è passato una generazione questo passaggio di generazione ha rimischiato le carte in tavola perché ci sono giocatori che non vent'anni dal 2 ecco grazie vent'anni dal 3 vent'anni sono per me sono due generazioni ok sono le generazioni che sono cresciute conoscendo i giochi cioè per esempio la mia generazione è cresciuta con giochi che parzialmente erano in casa e altri erano in gruppo ok c'erano molti più giochi da fare con persone di presenza ovviamente non esisteva neanche il concetto del covid quindi figuriamoci poi c'è stata poi c'è stata generazione del internarli nei videogiochi quindi cominciano a chiudersi perché si è passato per esempio dai giochi console portati c'erano tanti gameboy tanti nintendo 3ds e quant'altro si è cominciato a fare un console fisse super potenti pc sai continuo continuo si 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 ok siamo con winner cance di dato solo cyber cance con giochi praticamente che sono passati dal dall'essere fatti per poter andare in giro e stare con gli amici a parte la switch a giochi che invece sono diventati più da stare a casa un po' anche per quello che è successo poi con la pandemia ma quello già si parla molto recentemente rispetto a 20 anni di gioco ma in 20 anni comunque è cambiato tantissimo è cambiato tutto quello che succede attorno nell'ambiente videoludico perché Baldur's Gate 2 io me lo ricordo per essere stato un gioco che ammetto di non aver finito perché era troppo come dire ampio per me e ci sono stati momenti in cui non sapevo neanche dove andare a parare momenti in cui anche il gioco stesso ecco anche il grado di difficoltà è cambiato perché io personalmente nel 2 mi ricordo di essere arrivato a un punto in cui se non prendevo esattamente la decisione facevo esattamente delle mosse ben precise ci morivo io con tutto il party e praticamente dovevo ricominciare da capo quindi era cioè quel salvataggio ovviamente si intende ecco anche la cosa del salvataggio tra le altre cose è cambiata parecchio perché questo non lo so se sul gate 3 si può fare di salvare la partita mi pare di si puoi salvare la partita anche prima di prendere una decisione questo aiuta tanto ma il fatto che adesso sul 3 puoi controllare tutti i personaggi sicuramente ti aiuta a gestire meglio i combattimenti uguale come salvataggi perfetto quindi comunque l'agevolazione di poter decidere prima cioè di fare un salvataggio e poi decidere è rimasta per fortuna ci sono anche salvataggi rardi meno male e questa cosa comunque è cambiata relativamente il gioco è rimasto sempre uguale è cambiato però chi c'ha il pad in mano chi c'ha la tastiera in mano e puoi farti tutte le strade ci sta si Wenner è andato un attimo in fuga adesso tornerà che è rimasto sta andando a comprare il bardo's gate probabilmente così lo gioca anche lui però tra le altre cose un'altra cosa che ho notato e questa è una cosa che effettivamente sta succedendo è che il pubblico che conosceva dnd 3 a questo punto 3 o 3.5 dipende da quale e va a giocare e va a scoprire bardo's gate perché si documenta su dnd che gioca tanto con gli altri amici adesso con bardo's gate c'è stato un mezzo e un mezzo perché conosco gente che non aveva minimamente idea di che cosa fosse dnd e giocando a bardo's gate si è documentato e ha scoperto dnd che poi in realtà tra le altre cose questo gioco tipo bardo's gate è uscito adesso ma se ne parla da un anno più o meno con varie mini rilasci varie prove e quant'altro che hanno fatto comunque si è fatto strada a mantenere il pubblico per un anno intero prima della uscita effettiva del gioco quindi se lo sono tirati per parecchio e c'è metà pubblico che non conosce dnd e lo sta scoprendo grazie a bardo's gate e l'altra metà che conosce già dnd e non vedeva l'ora che uscisse a bardo's gate per poterlo giocare bentornato eccomi scusatemi tutto ok si si tutto bene tutto bene allora mi sono perso scusatemi vabbè stavate ancora continuando il discorso penso dicevo che una volta una volta a bardo's gate 1 e 2 lo lo acquisti lo compravano persone che conoscevano dnd e quelli che non conoscevano dnd di bardo's gate probabilmente non si avvicinavano invece adesso è 50 e 50 gente che non è il discorso che abbiamo fatto prima si 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 esatto l'ho riavvocato per tirare le somme figurati figurati vabbè quindi diciamo che il fenomeno appunto baldur scritto comunque in generale secondo me ha colpito più la personalizzazione della trama cioè o meglio la possibilità che un videogioco dà che tutti quanti hanno inneggiato all'innovativo quando in realtà non era vero era che già esisteva prima questa cosa e ci sono ripeto tanti altri giochi che lo fanno ma l'hanno scoperto tardi o comunque in generale adesso se ne parla meglio sui social ecco queste esatto esatto me lo confermi tu ma ti ripeto ci sono tanti altri giochi che in maniera diversa perché ovviamente non non sono identici a baldur's gate come metodologia di gameplay ma con un gameplay diverso se lo rigiochi ottieni un risultato diverso faccio un paio di esempi ivy rain detroit become human until dawn cioè sono parecchi e questi sono tutti io li classivo io li chiamo i storyteller ok sono storyteller sì perché pure life is strange può avere dei finali diversi delle metodologie diverse ma io ho giocato pure un qualcosa che non è storyteller va bene o almeno non c'ha quella metodologia papers please no mamma mia papers please quello è un gioco non tanto story driven non è però c'hai diversi finali c'hai diverse cose hai diversi percorsi da fare ogni volta che lo giochi ovviamente se non fai le stesse identiche scelte o azioni puoi ottenere una strada diversa quindi certo poi certo che aspetta che cosa è vampiro con i pettorali allora esatto io secondo me perché è stata fatta una buona campagna di marketing è stata sono stati toccati dei tasti un po' la sessualità il quello il quell'altro l'omone tutto bello la sessualità è stata la sessualità è stata toccata parecchio su questo baldos gay è stata proprio messa un bel capitolone l'orso un saluto all'orso che ci segue allora quando è uscito cyberpunk cyberpunk ti permetteva di personalizzarti la grandezza del pene ok ok alcuni hanno inneggiato al che bello una personalizzazione stupenda fantasmagorico finalmente poi vai a vedere non lo usi mai effettivamente è lì come showcase tutta questa personalizzazione è come vedere la lamborghini ma non poterla guidare ma che ti serve va bene puoi andare in giro senza mutande va benissimo però avevi preferito la personalizzazione del pisello su the sims che è scusami è semplicemente è una questione che si vede che è stata fatta una mossa per ammiccare ammicca ammicca e far parlare di sé punto su baldossiglietti invece hanno messo questa cosa anche nella trama quindi non solo è ammicca ammicca però hanno detto cazzo però lo possiamo far usare pure ammicca 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 però vai vai esatto vai usalo vai così vai farlo sul vampiro vedi che succede quello che mi piace l'integrità mi piace l'integrità che ha avuto baldossgate comunque da parentesi è che se un vampiro ciuccia la gente non è twilight è vampiro bravi perfetto in quella parentesi di apprezzamento figurati sono stati integri esatto the sims per esempio è troppo pudico non hanno voluto ammiccare ammiccare ma anche perché ricordiamoci che comunque the sims è di un'altra generazione come metodologia di pensiero va bene chissà come hanno fatto fare fichi fichi ai due sim sim no quello già era tanta roba che tu dicevi posso far fare sesso a due quante mod sono uscite per togliere le censure e poi uscirono le mod che poi ovviamente non essendoci l'animazione perché non l'hanno fatta come anche la censura sotto la doccia se tu togli la censura è una Barbie è una Barbie no ma c'è questa cosa che sta fermo così sotto la doccia quindi non c'è nemmeno che si sapona si 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 no sta fermo perché ovviamente non era concepito per una cosa del genere certo ma tra le altre cose anche il corpo del sim proprio l'asset come diciamo prima è da Barbie si si cioè non ci sono elementi sessuali quello è il fatto non c'è perché non è stato pensato per quello no altrimenti anche se è uscito un gioco che era un bootleg di The Sims allora è uscito winner sai come l'ho trovato sto gioco non ci chiederei mai giochi per il mio computer rilascio di un mese me l'ho trovato come disco maggio sto cazzo di gioco bello bello eh è arrivato a sto punto uno poi si gioca i giochini un po' porno scusatemi quello che mi ha regalato Weynor per esempio io l'ho aperto l'ho giocato e l'ho disinstallato perché era un gioco di puzzle che va bene non dispiace ma perché l'ho finito non peraltro però posso dire che i disegni cioè non puoi avere il buco del culo sull'altezza dell'osso della schiena cioè per favore ci sono dettagli l'importante è che c'era tu ringrazio che c'era ho capito ma vado a vedere i dettagli voglio dire anche l'occhio vuole la sua parte non la schiena tu ringrazia che c'era per la serie scusa meno male ok perfetto e quindi diciamo che per quanto mi riguarda la questione la questione Baldur's Gate 3 a livello di fenomeno è semplicemente che si è trovato al momento giusto nel posto giusto con amic amic molto fenomenale con le mosse giuste di mercato perché ovviamente giustamente come dice Mew ma lo stesso la tipologia di gameplay ovviamente lo si faceva anche nei vecchi con le migliorie grafiche con tutto quello che volete il pettorale del signorotto tutto bello impettito però hanno saputo fare il loro lavoro ecco c'è anche su quello però c'è comunque dire una cosa un'altra cosa che saggia che hanno fatto e qua mi aggancio a un nuovo punto che è tra quelli là Baldur's Gate come dicevo mentre eri allontanato recupero un attimo il pensiero è stato pubblicizzato provato in piccole parti che è successo? niente vai avanti vai avanti ok pubblicizzato è presentato tutto quanto in un anno è stato un anno di di lavori produzione presentazione quanto ci hanno messo a svilupparlo? lo sai? ah ok no ma ti posso non penso che ci abbiano messo vent'anni per svilupparlo no ma fai cinque anni tra i cinque e i tre anni sì sicuro e dai cinque e tre è un tempo legittimo per far uscire un gioco sei anni Weynor sei anni ci sta ci sta ci sta va benissimo sei anni sei anni per un gioco va benissimo è un tempo legittimo non è legittimo dieci anni non è legittimo vent'anni perché poi ovviamente stai lavorando su un gioco vecchio poi rischi certo e quindi quello qual è il fatto che in sei anni hanno dato la possibilità a diverse persone di provarlo ok ma se vado a vedere come avevamo detto prima un cyberpunk che mi parte tutto smarmellato e poi me lo vai a comprare a 70 euro pieno di bug e tu dici vabbè fanculo me lo fai uscire ma con Phantom Liberty nuovo DLC che è uscito relativamente poco tempo che cosa hanno fatto loro mi sono andato a documentare su questa cosa loro hanno quando hanno finito Phantom Liberty hanno fatto un update del gioco una patch e hanno integrato Phantom Liberty che ovviamente il 2.0 che è stato in concomitanza con lo sviluppo di Phantom Liberty quindi hanno detto io l'ho vissuto in modo unico unico esatto quindi tu ti ritrovi il gioco sistemato ok perché non era un 2.0 lo hanno continuato lo hanno reso funzionante e stabile ok e hanno messo intanto l'integrazione di Phantom Liberty e anche un'altra cosa carina una massa di mercato scusami ti dico questa cosa al volo una massa di mercato incredibile hanno fatto una patch subito dopo con l'arrivo di Edge Runners tra altre cose su Netflix è la serie tv di Cyberpunk su Netflix bellissima mi è piaciuta veramente tanto e hanno fatto una patch dove puoi ritrovare i luoghi e le scene del gioco della serie nel gioco quindi puoi trovare la locanda in cui si andavano a incontrare i personaggi puoi andare nell'appartamento del protagonista e ti tornano le vibes perché il finale fa piangere un sacco quindi boss e furbe quelle allora sì la 2.0 diciamo che l'hanno spacciata per un per un aggiustare ma io ti posso dire che l'ultima versione di gioco prima della 2.0 già era diciamo ci stavano quei piccoli bug che possono capitare con diciamo il personaggio che si incastra o perché si blocca da qualche parte quello lo avrai anche con la 2.0 ma ma quindi era giocabile tranquillamente ma con la 2.0 hanno voluto inserire determinate cose come dicevi tu hanno inserito alcune cose della serie tv che non l'ho vista ma hanno inserito alcune piccole diciamo non spoiler ma dei piccoli aneddoti ok che modificando la trama va bene tu per esempio in cyberpunk facendo una strada non incontri determinati personaggi e non incontri determinati personaggi per un motivo ben specifico che te l'hanno fatto capire trovando questa cosa tipo ti faccio un esempio che intanto non è spoiler perché parlerò in modo generico facendo la run con una signorina una dolce signorina ok tu non incontrerai un personaggio femminile ma incontrerai un personaggio maschile arrivato a un certo punto con il quale devi capire se puoi fidarti non puoi fidarti ci sono le ammazzatine ci sono le le varie diciamo scelte classiche ma giustamente se tu ti sei fatto la run precedente con il maschietto e hai visto che ci sta la femminuccia tu ti dici che fine ha fatto questa perché è un pezzo importante della storia andandoti a scavare tu te la ritrovi sommersa dentro l'acqua con ai piedi il masso di cemento quindi si viene a spiegare perché ci sta il maschietto e non la femminuccia hanno aggiunto tutte queste piccole cretinate che se ovviamente non le sai non le puoi nemmeno andare a scoprire essenzialmente ma che rendono il gioco veramente godevole ecco certo è tratante quindi è uscito con tante bug però è combattuto esatto ha combattuto una guerra infinita perché ha alzato un polverone questo gioco ma io credo che oramai saranno tutti così lo sai spero di no non arriveranno a quei livelli perché io alcune volte allora io non ho mai avuto tanti problemi con un videogioco ok nel senso che non partiva mandava in crash mandava in surriscaldamento la scheda video tutte queste cose qua non le ho mai viste va bene ma ho visto video ho visto diciamo persone che l'hanno avuti questi problemi quindi purtroppo è innegabile però è grave la cosa che è accaduta perché allora guarda il fatto è che io ci ho tenuto non li provano non li provano non li provano no perché il betatester non c'è più il problema è che se il betatester è il cliente finale tu ci fai una figuraccia come ha fatto una figuraccia la vedessa mentre i soldi si sono cuccati certo assolutamente allora non gliene frega nulla però se poi vogliono fare un altro gioco loro vanno col freno a mano ed è successo questo con starfield tu lo sai che starfield è partito maluccio ma poi ha avuto un'esplosione incredibile perché hanno visto che il gioco è stabile perché la betesda è la reduce da fallout 76 che è un gioco online basato su fallout che io ho passato un video un video a Wainer che magari vi invito anche a vedere basta che cercate the fall of fallout 76 che fa vedere praticamente questo per me è importante perché sfora su tante tematiche fa vedere praticamente come il gioco è partito male causando errori incredibili considerate che è un gioco multiplayer quindi la gente può interagire tra loro dando varie cose dando varie oggetti interagendo tra loro menandosi tra loro e quant'altro quindi in un gioco in MMO già è un problema perché ci sono più giocatori uno due ci aggiungi il fatto che c'è lo shop per poter acquistare cose anche con diciamo monete di scambio premium bene ci sono stati bug sulla sulla gameplay bug sullo shop che alcune volte le transazioni non partivano o partivano e ce l'avevano altri account bug anche a livello di la 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 vedesta dice abbiamo fatto questa errore scusate vi diamo 200 monetine per rimborsarvi un po' dei danni 200 monetine premium per rimborsarvi dei danni che ha fatto questo gioco pagandolo 60-70 euro 200 monetine nello shop non ci compri neanche la tazza in game sono tutto contenuto in game la tazza dentro il gioco di una skin particolare cioè hanno fatto una serie di manove sbagliate poi hanno fatto ancora di più le persone hanno cominciato hanno iniziato a essere bannate dal gioco e senza un valido motivo perché si ritrovavano praticamente una cassa piena di oggetti perché la vedesta aveva la brutta abitudine di fare un livello nascosto con tutti gli oggetti del gioco che loro utilizzano per fare test e quant'altro bene alcuni giocatori solo esplorando la mappa senza cheat si sono ritrovati si sono trovati dentro la stanza degli oggetti infiniti praticamente e sono presi oggetti premium armi e quant'altro e la presenza che ha fatto oh no banniamo hanno iniziato a bannare però a cazzo la gente basandosi solamente sull'equipaggiamento che aveva addosso quindi se un giocatore aveva fatto sei mesi sette mesi di gioco e trova oggetti abbastanza potenti veniva bannato perché aveva gli oggetti che aveva anche quello che ha citato quindi si sono ritrovati a segnalazione che poi era un cheat diciamo non cheatoso perché era non hanno usato nulla non hanno usato nulla nei videogiochi se lo lasci per terra è il mio esatto sì esatto perfetto e io potrei continuare da dire sul video fanno vedere anche il disastro che hanno fatto col merchandise allora beh Tesla ha proprio una nomea veramente infima sulla quale si stava avviando anche Square Enix purtroppo perché Square Enix aveva iniziato a delegare ok la produzione no la produzione lo sviluppo di giochi a case inferiori quindi diciamo risultava come Square Enix ma in realtà poi andando a vedere era una casa inferiore e ci stanno certi giochi imbarazzanti ma veramente imbarazzanti a livello di trama a livello di gameplay a livello di ma roba abberrante che ho giocato anche io che uno dice cazzo ma dovrebbe essere Square Enix porca miseria i famosi produttori di Metal Gear Solid per intenderci ok e no non funziona così perché perché appunto spesso e volentieri ci sono queste eh subappalti perché poi alla fine non è niente altro che un subappalto si 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 e tu ne paghi le conseguenze per me che chi diciamo mi segue da secoli lo sa bene io c'ho la brutta abitudine di invocare Square Enix ma in modo ah maledetti violento ah tu ce l'hai contro la Square Enix eh tu ce l'hai un po' contro la Square Enix si perché ma non mi ricordo che cosa ci ho giocato perché io ovviamente gioco veramente tanta roba però era roba che non stavano in piedi in terra proprio hai capito poi un altro gioco che ho giocato però offline ok sempre Square Enix no The Quiet Man come si chiama The Quiet Man è il film aspetta eh ah lo Square Sword tra te lo se mio mi ha ricordato la vecchia ah no The Quiet Man si chiama The Quiet Man ok ragazzi è è abberrante cioè sta a 3 euro quindi lo potete giocare va bene perché 3 euro è il prezzo che si merita ah si l'ho visto l'hai giocato tu e l'ho giocato offline però offline ok l'ho mai portato online però ne hai parlato mi ricordo che ne hai parlato tu di questo io ne ho parlato Squaresoft da Squaresoft sì alla fine indagando perché sia questo che un altro titolo ti ripeto che non non me lo ricordo però l'ho portato in live l'altro titolo che forse stavo sul pass credo e indagando ho scoperto che in realtà non l'avevano sviluppato loro l'aveva sviluppato una casa un po' più indie ok e allora la ci sta ma non non mi dire che l'hai fatto tu non ci mettere l'hanno fatto sì l'ha fatto la Human Head Studios vero effettivamente non ci mettere i i banneroni tuoi abnormi metti i loro banneroni e piccolino e vai eventualmente che ci stai pure tu no ma la cosa divertente è che cercando The Equatment il primo articolo uscito è Square Enix autodistrugge The Equatment l'hanno fatto saltare in aria l'hanno fatto saltare in aria perché non volevano prendersi la la briga di finirci in mezzo loro in questo ma alla fine ci sono rimasti perché il gioco quando uscì c'era il titolone grosso loro hai capito quindi probabilmente Bethesda avrà fatto la stessa identica cosa o comunque avrà fatto delle scelte interne sbagliate e quindi c'è tutta una conseguenza nel risultato finale queste hanno fatto hanno fatto praticamente la Square Enix ha fatto un video su youtube dove lui recensisce la Square Enix recensisce The Equatment valutando come il peggiore scherzo dell'ultimo secolo questo però dopo eh dopo che è stato rilasciato dopo parecchio tempo hanno dovuto mettere le pezze hanno dovuto mettere delle pezze colori ma l'hanno scusami ero incuriosito da questa cosa no no ma l'hanno toccato proprio l'apice cioè il fondo per quanto mi riguarda ok perché stavano rilasciando dei giochi veramente brutti marchiati Square Enix al prossimo Metal Gear Solid nessuno te lo compra è inevitabile fin quando non è Rising fin quando allora sai però qual è il fatto Enor lì c'è l'effetto nostalgia non solo è l'effetto saga che è simile all'effetto nostalgia sì 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 nostalgia è più generico secondo me l'effetto saga perché l'effetto saga può essere anche di un gioco uscito da poco che continua adesso tipo God of War ok ha l'effetto saga con Ragnarok perché quello precedente è stato fantastico il secondo è stato ok Legend of Zelda questo l'ho potuto vedere proprio a pieno perché l'ho seguito tantissimo da alcuni streamer Legend of Zelda e Breath of the Wild l'ho giocato Tears of the Kingdom no Tears of the Kingdom è andato meglio di Breath of the Wild quindi del sequel che grazie all'effetto saga è riuscito ad andare avanti ma è un gioco che hanno valutato o super incredibile o così così perché lì c'era l'effetto la trama è un pochino ripetitiva o comunque non tanto completante diciamo e d'altro lato c'è gameplay che è incredibile permette di costruire macchinari quindi arricchire un pochino di più la cosa stesso principio ce l'ha Metal Gear Solid perché è partito con una saga durata veramente un sacco di anni veramente tante generazioni ed è arrivato poi l'ultimo che hanno fatto che non se lo è caccato in tanti Phantom Liberty se non sbaglio no Phantom Liberty è di Cyberpunk no ha un altro tipo sempre di quel nome lì però adesso non mi ricordo è quello dove sostanzialmente la pecora può essere presa e portata con il palloncino verso l'alto che ha l'open world che c'era la moda dell'open world adesso non mi viene in mente come si chiama Metal Gear vediamo se lo ricordo Phantom Pain Phantom Pain ah ok Phantom Pain ok che se lo sono caccati un po' poi c'è stata la revive di che ho giocato anche io che Metal Gear ne ho giocati veramente pochi Metal Gear Rising sì Revengeance quello è un gioco più vecchio quello era molto animoso va mi ha ricordato molto che ne so giochi stile anime per intenderci sì come giocabilità sì come trama più che altro molto animoso eh vabbè sì forse molto molto cuccioso cuccioso tra virgolette è molto meme è molto meme quel gioco cioè il il nemico finale è un super patriottico americano è l'estremismo giapponese va nei video è un estremismo giapponese ambientato nel contesto americano che ha fatto che ha spopolato nell'ultimo periodo negli ultimi anni quando il gioco è molto più vecchio perché c'è stato un po' la revive di giochi vecchi rigiocati e detto cazzo ma questa è una perla perché non lo calcolano eh ma per esempio come dice Muse ci sta il remake di Silent Hill 2 Silent Hill F che non sta facendo risonanza e ci sono questi remake che per esempio io ho sentito in sordina ma perché l'ho scoperto io per cacchi miei stanno facendo il remake di Tomb Raider 1, 2, 3 e nessuno ne parla sì no Tomb Raider Tomb Raider non so che cos'ha ma Tomb Raider ogni volta che esce fuori quel quel marchio c'è proprio un muro arriva un muro ogni gioco c'era l'ultimo Tomb Raider che sembra essere figo ma io gli ultimi non li ho nemmeno visti perché non sapevo nemmeno che esistevano io ho visto solo i trailer nelle varie fiere fine cioè nelle varie conferenze allora io ho scoperto che esistevano i Tomb Raider ok perché per me è terminato con Tomb Raider 4 se non erro ma stiamo parlando degli anni 2000 2001 2002 ok sì sì ho scoperto che sono usciti una carrettata di Tomb Raider dopo perché perché Epic ne ha regalati due ah vedi ma non lo sapevo infatti ho detto ma dove cazzo sono usciti questi qua che io non li sapevo proprio perché nessuno li conosce cioè non è un gioco probabilmente che attira o comunque non c'è stata risonanza ma un remake di Tomb Raider 1 2 3 che è stato tra virgolette tra i precursori del lasciatemi il termine open world va bene perché potevi andare un po' dove cazzo ti pareva va bene sì non ne hai proprio parlato zero 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 totale va bene che hanno cambiato sì va bene che hanno cambiato il personaggio mi va benissimo ok anche perché con la grafica è un po' inevitabile che cambia però c'è no o è cambiata completamente la storia l'hanno voluta io allora io 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 lo associo al fatto che all'inizio era la eidos se te la ricordi va mi ricordo il nome eidos allora io ti dico io ti dico intanto una cosa eidos mi esce come azienda che fa termos aspetta no 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 se ti vai a prendere la allora ti prendi tombraider 3 ok l'originale ah eidos montreal cazzo eidos montreal è stata acquisita poi da square enix square enix tu dovresti puntare tantissimo su questi titoli perché l'effetto nostalgia abbiamo capito che funziona c'è l'effetto nostalgia ma non devi smerdare però i nuovi giochi non devi smerdare i nuovi giochi allora io non li ho giocati me li recupererò un po' con la volta perché dato che li ho scoperti ci giocherò però un po' con la volta è vero mi ho attirato fuori la personalità è completamente morta infatti allora molti dicono che shadow of the tombraider è venuto fuori bene ma non ha battuto la mentalità corretta che molti giocatori persone comunque che hanno visto crash tombraider si sono fatti di Lara Croft Lara Croft a parte il film che comunque è un attento Lara Croft era nata tipo batman era un riccone ultra potente con delle conoscenze ultra mega fantasmagoriche e con una prestanza fisica molto imponente ovviamente non si mascherava però era riccona la famosa villa esatto con il maggiordomo che metti nel congelatore era la mia parte un classico un classico ora invece abbiamo una tombraider che effettivamente appena usa il rampino cade c'è una cutscene si fa male e c'è il culo in primo piano hanno sgonfiato anche tutto il resto e quello è fatto era una era una diciamo una metodologia molto ma molto apprezzata anche quella estetica del una volta tombraider aveva una personalità forte e anche un background ricco adesso invece no no e poi tra le tre cose un'altra cosa che è è accaduta è anche che tombraider è finita in un gioco in una serie di giochi che ormai non hanno un una importanza come la precedente io intanto ti lascio fare il fatto è che è finito non ho detto niente è finito praticamente in un genere di videogiochi che non si cacca più nessuno i giochi stile uncharted perché non è più tombraider che fa i giochi alla tombraider e tombraider fa i giochi all'uncharted perché ha avuto importanza quello come come colonna portante allora io ho giocato uncharted e quando l'ho giocato la prima volta io ho detto cazzo è tombraider però con meccaniche un po' esagerate un po' al limite un po' alla stile gli ultimi eh parliamo degli ultimi giochi di tombraider allora gli ultimi ok però l'ideologia diciamo nativa è che lui è tra virgolette fa un po' di azione io per questo ho capito che non è vero però è innegabile quando l'ho giocato mi ha dato molto quella sensazione con di 15 anni di differenza quindi ovviamente con delle meccaniche nuove con delle meccaniche innovative ma il feeling era quello ok e io non le avevo giocati non sapevo nemmeno dell'esistenza degli ultimi tombraider va bene sì 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 sono stati abbandonati completamente adesso probabilmente se mettessi davanti ai miei occhi tombraider l'ultimo lo guarderei e direi cazzo è uncharted capito capito esatto è quello il pensaggio che passa non è tombraider del vecchio stampo è uncharted della recente è quello il problema è l'impronta che hanno preso hanno detto cazzo questo personaggio ci potrebbe essere utile non è un indiana jones perché non era indiana jones perché Lara Croft era tutta altra cosa ok però a me ha ricordato più quella linea di di storia ecco adesso se rifanno il remake di tombraider 1 2 3 mantenendo la storia così com'era aggiungendoci qualche piccolezza migliorie grafiche a go go accorgimenti vari perché no perché no soprattutto ci devono lasciare il maggior tomo nel frigorifero assolutamente e assolutamente sì quello è necessario e io però ho un po' il timore che dietro questo fenomeno del il gioco esce ma muore nella fase di uscita perché c'è stato parecchio e parecchio hype nel trailer per esempio di Shadow Tomb Raider che è uno degli ultimi usciti se non l'ultimo in particolare durante una conferenza dove avevo visto anche io il gioco ho detto figo bello sembra figo giochiamolo poi me lo sono scordato poi quando è uscito ho detto ah già è uscito probabilmente perché hanno non hanno voluto spendere abbastanza nella nella pubblicazione o quando hanno speso pubblicazione forse qualcosa è scattato nel nel giocatore magari perché è uscito qualcosa bisogna stare anche attenti a quello che esce in concomitanza con un gioco perché quello ti frega sempre allora allora aspetta come questo è coso e l'altro allora ci sono quanti quanti giochi hanno sono stati rinviati perché usciva un altro gioco ed avevano paura della competizione sì parecchi giochi hanno fatto così ma tu così allora non pubblichi più un cazzo no infatti cioè se vuoi la data perfetta che allora devi stare solo tu pubblicalo il 15 di agosto e sai che nessuno te lo compra poi però ma tu schietti quando è uscito nel ad agosto mi pare o è uscito a settembre aspetta vediamo al volo però cioè il momento migliore secondo me non dico che è questo ma quasi perché adesso c'è quel silenzio prima di Natale no quando mai a ottobre esce un sacco di roba a ottobre sta uscendo di tutto il mondo e deve uscire un bel po' di roba ma non ce l'ho l'elenco a portata di mano però ok ma buono ok però c'è quella fase di novembre c'è quella fase di novembre in cui non esce però un cazzo cioè ok a ottobre forse ancora ancora ci siamo il 3 agosto ma tra novembre 3 agosto è uscito ad agosto Baldur's Gate e mi sa che non dico che era da solo ma quasi quasi sì più o meno ora ottobre e novembre io l'ho visti sempre come un periodo in cui si escono cose ma contro dicembre che poi c'è Natale esce l'universo di roba perché c'è sempre la corsa agli acquisti di Natale io spesso a parenti rivedo sempre questa corsa che però effettivamente ricade magari anche su giochi usciti da qualche mese ma se ci fai caso molte cose anche i Game Awards se non sbaglio li fanno a ridosso di Natale li fanno verso verso Natale Game Awards perché poi annunciano il gioco dell'anno chiaramente ci deve essere il Goti perché là è inevitabile esatto ti sbilanci? mi sbilancio? sul Goti che senso? mi sbilanci sul Goti allora allora Baldur's Gate è un fortissimo candidato Lice of P è l'emergente concorrenza ma Lice of P già lo vedo adesso sta ingranando ma sta ingranando un po' più piano Baldur's Gate è stato a botta proprio un altro gioco che però noi non stiamo considerando che nel contesto mondiale ha fatto un po' Diablo è uscito quest'anno se non erro Diablo allora infatti io quello ti volevo dire c'è stato Diablo che purtroppo è uscito a inizio anno perché è uscito un po' diciamo no aspetta lo sai che forse è uscito l'anno scorso no Diablo è uscito Diablo 4 quando è uscito? Diablo 4 è uscito io ricordavo quest'anno 5 giugno 2023 no anteprima 5 giugno 2023 no data di rilascio 17 come 17 ottobre 2023 what ah no no l'hanno rilasciato mi sa in fase anticipata in beta il 5 giugno in anteprima ma non mi trovo aspetta ah no ma perché io sto vivendo da Steam neanche io aspetta forse è Steam che lo ottiene eh lo so Diablo 4 ma ricomprato su Steam già molte oh no un altro argomento aspetta wait che sta succedendo sto andando su Battle.net aspetta lo vado a vedere quando è uscito quando perché ho detto adesso che Diablo 4 deve essere ricomprato su Steam si perché ah ecco qua Battle.net e Steam Diablo 4 sarà oggetto di un bombardamento di recensione negativa al momento dell'uscita su Steam il 17 ottobre 2023 non è uscito su Steam non è mai uscito su Steam ma come tutti i giochi Blizzard per quanto mi riguarda ah vero perché della Blizzard giusto Blizzard loro hanno il loro lancer giusto giusto no allora è uscito è uscito no è uscito prima giustamente però quest'anno però quest'anno è uscito quest'anno non c'ho la data Diablo 4 è un love it or hate it perché è un effetto saga che va avanti grazie agli altri Diablo che hanno fatto la storia ma è stato massacrato violentemente da un sacco di recensioni negative perché ci sono le microtransazioni per ogni singola cosa su Diablo 4 ho letto anche alcuni alcuni pareri alcune 6 giugno recensioni che parlavano di questo 6 giugno eh però allora vedi questo per esempio il goti è un po' discriminatorio per i primi i primi mesi dell'anno se tu un gioco lo fai uscire a gennaio nessuno se lo ricorderà a fine anno allora o rischi di essere soppiantato da un gioco che esce verso ottobre novembre fa il boom e viene nominato goti premesso che i game of the year non li decide esattamente il pubblico ha una valenza no 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 ma non la è politica non incide esatto detto quello io vorrei anche un attimo ecco poi magari è un altro argomento anche perché siamo all'orario ti direi che poi un giorno dovremo parlare anche ma chi c'è dietro queste conferenze lo scopriremo chi è che recensionisce queste cose comunque chiusura domanda get of the year secondo me qual è potrebbe avere molte speranze Baldur's Gate allora io secondo me sarà Baldur's Gate ma ci stavano proprio quest'anno c'erano tanti pretendenti che potevano ambire a quello diablo 4 l'isop mi sembra che pure warhammer è uscito quindi pure quello là poteva essere quello massimo probabilmente vincerà in un paio di categorie non come game of the year secondo me ci stavano tanti altri proprio quest'anno secondo me è stato un anno complicato come uscite allora io ti dico solo una cosa spero che almeno una nomination o comunque un premio lo vinca un gioco che a me è rimasto tanto a cuore e che mi ha fatto molto gioire da ah ecco un altro gioco che è uscito quest'anno è Hogwarts Legacy mio caro Weynor vedi ce li dimentichiamo giusto se li fa uscire troppo prezzo e quindi per questo loro comunque tendono a far uscire nel 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 Q3 va si è uscito a febbraio a Hogwarts Legacy se non erro però un gioco che davvero mi auguro che faccia la storia almeno per un titolo e qua piccola parentesi Sonic Frontiers non voglio leggere quello che ha scritto mio è riferimento a qualcosa per caso no no è perché diciamo vabbè io non sono un amante del mondo Harry Potter quindi ok quindi sfonda una porta aperta con me però ah ok 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 no c'è la c'è un casino su Hogwarts Legacy che per fortuna è un po' scemato che è stato quello della Rowling e tutte le compagnie belle vabbè vabbè forte che abbiamo giocchioso mesi fa va bene così comunque quindi per te Baldur's Gate Goti sì 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 c'era forte possibilità che sia la possibilità penso proprio che sarà sarà quello il gioco dell'anno yes va bene signori io penso che abbiamo raggiunto il limite massimo anche perché vi ricordo che è un podcast verrà ricaricato su youtube metterò il link ovviamente ovunque spammerò farò dirò e quant'altro noi ce la sentiamo già di confermare la prossima data allora settimana prossima il 15 ti direi che ci sono io sì quindi allora confermiamo che il 15 10 23 sempre stesso orario ore 10 ci sarà la seconda puntata del del podcast e con ovviamente porteremo altri argomenti esatto io vi ringrazio per l'ascolto vi ringrazio se avete domande o altro penso che sia il momento ora di farle altrimenti se volete fare qualche domanda o altro magari le possiamo anche conservare e leggerle all'inizio del prossimo all'inizio del prossimo anche vabbè diciamo che avrei questo è un po' da affinare come cosa ecco sì sì assolutamente buona domenica a tutti allora allora ragazzi buona domenica sai quando vai in live tu io sono in live questa settimana regolarmente forse giovedì non ci sarò però lunedì e martedì ci sarà quindi domani e dopo domani ci sarà live regolare poi mercoledì posso fare questa piccola piccolo annuncio benix si laurea quindi il 12 ah no proprio il giovedì niente il 12 si laurea quindi quel giorno sicuramente non ci sarò e sarà un giorno importante per lei quindi le starò accanto poi basta per il resto le altre live saranno sempre lunedì martedì e giovedì e all'inizio cioè all'inizio di novembre fine di ottobre ci sarà una live extra di di streaming il sabato perché riprendo la campagna di Dungeons & Dragons va bene io quindi io ringrazio Sefer Ludica per per essere stato qui con noi noi ci vediamo con me ci vediamo stasera solido appuntamento classico facile e mentre ci vediamo con Terra Branch domenica prossima il 15 alle 10 grazie a tutti domenica bye bye ciao ciao